La mia non elezione è dovuta anche al fuoco amico, questo significa che evidentemente penso che vi siano stati diversi candidati, non ovviamente del mio movimento, proprio del mio movimento parlo, non della coalizione mia, ma del mio movimento, parecchi non abbiano sostenuto il Presidente. Ma per le motivazioni che ho detto prima, perché non sono uno yes man, non sono fittiano, non sono belusconiano, non sono di tizio, di cari di semploni, io cerco di appartenere ai bisogni veri della gente e basta. Candidati del movimento Schittulli? Non del movimento politico Schittulli, candidati eventualmente del movimento politico Schittulli area popolare, diciamo così. Ha già individuato i nomi, che cosa le fa venire questo sospetto? Beh non è uno sospetto, per quanto mi riguarda è più che una certezza. E questo che conseguenze ha? Diciamo a livello politico? Ma no, nessuna conseguenza per quanto mi riguarda, il tempo è galantuomo. Ma è il voto disgiunto che le ha fatto pensare a questo? Cioè ha avuto un segnale? Certamente sì, ci sono stati parecchi voti disgiunti, così come ci sono stati parecchi voti, circa più di 11.000 mi hanno riportato, espressione soltanto sulla mia persona. Per tanti del centro-destra che hanno preferito votare come candidato a presidente o i grillini o addirittura la Polibortone o altre realtà. Dobbiamo aspettarci i movimenti in termini alla coalizione? Cioè questo potrebbe rappresentare che c'erano degli accordi magari sotto traccia? Ma che ci possono essere degli accordi, possono essere degli accordi affaristici che per quanto mi riguarda non mi appartengono.